Allora, Flavio Tonetto, finalmente sono arrivati questi punti che potrebbero essere decisivi per la salvezza. Eh beh, per noi valgono sei punti, anche perché fortunatamente con quelle dietro di noi abbiamo fatto sempre bene. Sì, appunto, poi c'è il discorso del Santià che oggi ha perso a 9, quindi diciamo a 9 punti praticamente non ci sarebbero play-out. Ad oggi sì, però bisogna vedere. Poi, la Pro Donnero cosa ha fatto? Mi sembrava che abbia perso. No, no, ma i vitali portano anche per riportare un po' di entusiasmo, anche in funzione della partita di sabato, perché di certo non deve essere una festa, nel senso, però è un evento che nonostante tutto di Ghellertona praticamente conta qualcosa. Sì, contro il Borgossese ricordiamo alle 13.30 di sabato in diretta a Rai Sport con una partita difficile contro una delle squadre io reputo forse più forti, specialmente davanti del campionato. Più forte va bene, secondo me, è bravo il loro allenatore, secondo me si vede proprio l'impronto dell'allenatore, secondo me, sarei contento che andassero su loro, perché ovviamente vi dici, può essere la classica favola, perché del Gianna, non so se andrà avanti fino alla fine, anche se oggi mi sembra che ha vinto. Sì, sì, ha vinto. Comunque questi tre punti basilari abbiamo sofferto solo nel finale, perché poi per il resto la gara è stata a senso unico. C'è la classica solo sulle pallinative, anzi, potevamo benissimo chiudere. E questo è il gruppo, io dico sempre che anche la Roma, a parte destra, anche loro non hanno la punta, perché ultimamente con questa storia della punta, noi abbiamo dimostrato che si deve far bene lo stesso. L'importante è che il ministro, oggi, e avesse tutti a disposizione, come è stato, poi a questo punto è tutto scegliato. Ecco, l'unica rimpianta sono quei tre punti persi proprio in finale di partita che sarebbero tanta manna. Tre no, perché ero uno. Altre due in generale, sia con l'Iviana, solo, 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 però, sai, ci mettiamo anche dentro la nostra domenica, non è che mi erano piaciuti oggi, lì ci abbiamo proprio visto, anzi, crescendo, solito anche nel secondo tempo, proprio, probabilmente, sono stimolati, sono importantissimi, importantissimi. Ok, grazie.